allora volevo dirti si vogliono vuoi ridere vuoi ridere sai che è il giocatore ah è santa ma quel pagliaccio di santo hanno cambiato giocatore lo sbaglio e l'altra vincenze comunque ok facciamo tappo a lunedì sera ogni di tappo facciamo troppo la domenica ok allora la domenica secondo me è fattibile io me lo accorlo ti dirò bene 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 sono quindi ho padova ginova ottimo dimmi cosa gioca santa ma non so in realtà c'hai tu signate che è nato io ottimo ma lo scopriremo con la prima carta che giocava affo contro no dai è mirror match è affo contro affo e tocca bene ragazzi adesso vedremo affo contro affo siete tutti contenti vero io legavo per toscana pisa o grande grande mi è piaciuto molto il geddon che hanno fatto pisa è stato uno dei livelli in cui ho effettivamente partecipato in deltamente e vabbè pisa ce l'ho ancora è sempre stata una delle mie città che mi è piaciuta da visitare comunque no 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 mi dissocio eh affogato al caffè si si buono l'affogato al caffè ne avrei bisogno in questo momento affiniti si eh niente come dovevo andare anche un soprannome no 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 poi mi verrà in mente che incusi turno 3 4 turno 4 turno abbastanza stanno giocando abbastanza velocemente tra l'altro vogliono andare a casa vogliono anche loro sono stanchi vabbè senti è affo contro affo quella non mi hai detto di si sa ma poi ci dobbiamo arrabbiare con santa no 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 qua è colpa mia perchè ci ho ho girato il telefono e non è sentito come al solito credo no no però santa lo sa certo ok la partenza vi direi che è anche simile ma il fatto che abbia giocato già kenku diciamo che è abbastanza abbastanza ma non hai detto di girarlo ah si l'ho fatto ok bravissimo noi abbiamo fatto da poco la tappa 10 grandi abbiamo fondato una lega circa due mesi fa grandi e con una mela di 20 giocatori sono contentissimo di leggerlo complimenti ragazzi complimenti bravi bravi a vedere l'appoggio della martesana di tutte le leghe della zona sicuramente con pizza pisa potevamo capire che questo è di pisa ah si va bene e allora mi rinforza che non basterà ovviamente secondo me quella terra di kenku porterà via tanti danni vedrai meno di chiaramente cose come tipo la galvanica o gli togli l'artefatto non so come perché nel mio match credo che l'unico modo per evitare di trasformare la terra in creatura sia col counter perché non ha rimozione penso ecco non so controllo ti stai facendo sorgere un video eh non lo so non so se ci vuoi dire solo così a meno che ovviamente anche io non faccia un altro game quindi si lascia bloccarsi infinito beh bello 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 diventerebbe incredibile allora vediamo un po come siamo messi, 2 mana 2 mana cosa potrebbe fare con 2 mana tante cose un'altra disputa giustamente no perché ha otto peschini che fai noi sfruttiamo secondo trazer forse secondo trazer no, hai ragione, ricordo male, no, ricordo male, è il metallic rebuke, quello che poteva fare la differenza, sì, tolto quello, il mirror the feelings era un cammino di santiago, allora posso dire che hai spottato verità, manny, hai spottato verità, effettivamente è così, perché, no, sai che, cosa facciamo per un'ora di game, peschiamo, va bene, ho fatto Kenku, ho anche io, sai chi è Kenku, è l'autista che ti passa di fianco a te, ti vede un po' arrancarti, dice vuoi salire, tu dici, beh sì, no, sai cos'è, Kenku è il semino dentro al peperoncino, che tu dici, oh, buono il peperoncino, poi mangi il semino, fai, madonna, bruciore, ok, uguale, riguardo questo vorrei salutare tanto un mio amico, perché, ho fatto delle ciliegie alcoliche, buonissime, figata, solo alcol, portale qua, portale qua, no, lo vedete, devo portare, no, ce n'ho quelle buone, le rifarò, ok, tanto che solo alcol puro, quindi erano immangiabili, se ne è diventato una sfida, questo mio amico, l'ho fatto, ha perso, le abbiamo finito, il barattolo, l'abbiamo fatta, un amico 13, questo, io 12, lui 11, un altro si arreso, nel senso, se ne ho mangiate un po' poi basta, però era come bere alcol pure, si immagino, comunque il game, si è, procede, di fatto, stabilizzato, no, perché, abbiamo due tesori, da una parte, abbiamo, un token, abbiamo, l'affo che sta spingendo, Dall'altro abbiamo, è una, è una landa che ti picchia, lo sai che, cos'è quella landa, dopo finisco il racconto, è come il momento, è la montagna del momento che arriva, lo picchia, fermi tutti, perché ha sacrificato Genku? Sì, perché lo riprende, per, a parte di poter riprendere frontana, però mi è venuto un rilapsus così incredibile, però dico, ma quanto serve forte a Nert in questo momento, sì, cioè così proprio, vabbè, sì, ha assistito, i mirodi affinti sono un cammino, sai, quello che è nato, ok, ha avuto un altro rilapsus, e niente, ha, sì, io sono, ha lavato i denti, ha perso la scommessa, Se l'ha mangiata, ha detto, oh no, no, ma è a posto, ha fatto il primo morso, non ha sentito nulla, la menta copre il sapore della, mica, ha fatto il secondo, gli esplosa tutto, e fa, eh, ha dovuto eri rovare i denti, Ok, quindi, però, vediamo che, adesso, abbiamo, quel mio reinforcer, che è blessato dalla luce divina, cioè, lì, è diventato un tutt'uno con la luce, Beh, perché è in colore, riflette bene, bellissimo, riflette bene, questo è, ha un botto di mana, l'affo, da parte di Vincenzo, riflette bene, non si sa, che poi rispecchia anche, è tipo di giocatore che salta, molto metodico, molto, preciso, Autosport, ah, scusate, autosport, Sì, mi piace, mi piace, ok, andiamo ad aggiungere il reinforcer, va bene, va bene, ma qui è la sfida, chi è l'altro più bello, tu quelle preferisci? Sai chi è? Ah, ah, vediamo un pesce, un pesce del mercato, eh, adesso la board di Vincenzo si fa, è stata apparecchiata, Questa è la versione, ok, 3, questa è la versione, quale, di chi stai, di, 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 di Vincenzo, si, senza i jixian, mi sa, perché stia, giocano alle gurmug, si, non vuole dire una cazzo non tutti lì già abbiamo visto che alcuni li hanno provato gixion ma poi perché non ricordo se giocano entrambi inizialmente se non sbaglio non giocano a gormag giocatore gixion perchè il prezzo grosso lo fai con lui capito e giocano che arrivate combo con crocciano perché non ho trovato l'altra formato gormag che in cui questa è la versione delle azioni è stato affidate che vai schiavito schiavito allora come sono messi qua con un counterine su un conto per munizioni è un menzio vola farla entrare gli fa anche lui le più che poi considera quanto non so questo a meno che non trovi il modo di fare un'altra debut o comunque di pagare con la review ma non penso ci siamo qui qui molto tranquillamente risolvono i counter cioè vincere anche la counter e dopo avere quella board giù fa male comunque 7 perché adesso chiaramente vincenzo attaccherà e ed è questo tuo parale santa non ha neanche la fontana capito per questo non è l'italia ma va due se ha una galvanic blast in mano direi che la quantità è più che conclusa sì non ha neanche modo di fare due mana bargain sul forse perché è stato costato a tapparellande per fare di nuovo il prevedere per questo progetto gg ok ha avuto finiti giustamente scusatemi oltre a la mani non c'era anche munizioni che in questo caso chiudeva il game detto fatto è stato un game veloce partire di terra che può fare millenforcer war mag crei una stabilità in bordo che da togliere se non giochi tempeste e non giochi tempeste non risolvere mai e tra l'altro la tempesta non risolverebbe neanche la terra di king è stato interessante abbiamo visto come si può evolvere un po' mazzo di affidi che ormai penso che tutti quanti conoscono perché capo stipite del meta allora la versione con i gixxian infiltrator la prima che è uscita ha un kratian shaman due spell pierce due ditti due duress quattro gorilla e quattro pierce bella quadrota comunque mentre voglio farti notare una quadrata sulla lista guarda come si chiama quello che la piatta io adoro i numeri player io adoro il nome di player online capitalista malvadao che sarebbe il capitalista malvagio in portoghese mentre quella con che in cui di me in labor mag è un po' più spalmata dato quello gioco monoper di king perché raddoppi il tutto raddoppi che ancora arriva 3 copie di kratlan shaman una mini spellbomb ok può servire sempre due gorilla, due chenere, quattro pierre e quattro blu la ne kill decide giusto? si 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 no 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 copio gioca due makeshift munitions di main due munitions di main non mi piace no cazzo dico si forze è una cazzata va bene vediamo vediamo tra l'altro ho una domanda la me kill spellbomb per pescare dice quando viene messa al cimitero no quando attivi l'abilità devi pagare niente quando attivi l'abilità no? sei sicuro? sei di qua è una cosa giusta eh? ah no quando è messa in un cimitero quindi ci fai discuta sopra pagando un euro in più comunque peschi intrigante lo sacrifici ah no infatti c'è la risposta no assolutamente però pensavo io ok va bene dai godiamoci il costo di oggi 2 questo è stato veloce come dire non eccessivamente vabbè da abbastanza un po' unilaterale è finito più o meno si 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 sicuramente avevano abbastanza artefatti quello per forza se non mi piacevi vedere la classica partenza super sparo dove metti doppio mi rinforcer torno 3 tipo se non mi pare di averla vista in in diretta non abbiamo mai avuto questa possibilità no si forse razza è riuscito a farlo una volta contro joseph mi ricordo questa scena qui dove giocava a jeskai e razza che aveva un matchup che era positivo con affo aveva tipo sciamato doppio mi rinforcer con ranella tipo ed era una cosa incredibile e poi il giorno ha picchiato eh si poi si eh vediamo 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 tra l'altro adesso c'è dicono che con firexia probabilmente affo scenderà un po' perchè hanno stampato l'incantesimo bianco che può tappare artefatto e quindi sarebbe una sorta di slando che fa sempre male haki ha 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 è da capire sicuramente è una bella carta quello poi vabbè stiamo pensando hanno gli archetti più interessanti però questa volta non diremo nulla che ho messo di primi ha capito abbiamo il nostro g diretto va bene dai concentrati adesso parte g2 ehm toccherà santamaria che aveva io 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 faccio io guarda lo dirà e le picchi tutti e la come vedete attualmente la versione di trono con gli altari interessanti giocata io la vedo allora da noi si stava giocando parecchio ci sono giocatori tra cui marra a cui piace tanto con la versione si ehm attualmente oh aspetta aspetta è uno specchio niente scusate allora attualmente penso che che non sia la versione più forte non la versione più forte di trono probabilmente ancora la versione più forte però che non riesce a reggere la velocità di alcuni mazzi mhm e quindi fa un po' fatica ok però ti dirò io onestamente a un torneo grosso volutere di portarlo perchè comunque è un mazzo che che secondo me non può toppare può fare top non toppare si toppare ma nel senso non è fluppare flop ah si ok ah si è vero c'è una canzone tra l'altro dove c'è Dio l'ho dato che fa hai topato bellissimo però di rap non so comunque sta picchia la coronella gli mancavano che cosa india forse per fare il mille pezzi un'altra terra guardiamo alla giocata ah ok sono le due persone contenti forte io avrei animato il licore perchè beh tu sei un troll ok paghi tre paghi tre tre colesti miei allora devo girare verso il lato di ma no in realtà voglio un po' c'era più se non da fastidio va bene sai cosa più che altro fanzini stavo pensando che effettivamente anche il nuovo incantesimo la nuova aura è quello fanzini comunque scusami mi sembra più fanzini fanzini è giusto che quello nuovo incantesimo bloccheresse anche alt altron perché è un'abilità attiva quella è il problema è che tende a far trovare uno su turno inizieresti a giocarci attorno diventa più difficile eh però il blocchialtare si ma lo giocano su turno ah beh no certo certo assolutamente ok vediamo oltre alle pezze di ferraglia lucecante sul ma sul eh sono blessate le cioè tipo soler con le mani così chissà vediamo di nuovo come si può dire mmm ha senso unico si cioè fa troppo differenza fa troppo differenza di zoom non non ho visto prima che ma no non mi piace questo miglior match proprio per questo motivo perché bombetta se metti prima kink hai tanto vantaggio se l'altro non mette giù kink non puoi risolvere con la golpezza eh potrò funziona così sta contando però mi rinforza probabilmente fa attenzione ha un kinkumano no non l'ho visto no mi pareva che fosse un ah una fornace una gorma ganglier ok no ah no il peschino totcast si totcast fornace no un altro ponte ha fatto una totaterra questo quella è una ranella saper tirare renforcer renforcer ok mmm non mi piace eh renforcer eh si non mi piace pagare per renforcer eh tanto non riuscire neanche a a guardarlo totcast counter stavo pregiato a cercare i miei ragionamenti eh quello quello si risolve forte un altro totcast che oh io l'ho giocato ultimamente e mi sono trovato bene nel modo di gameplay velocità eccetera però contro con il dota è ok un pochino non tornare in terza e facerlo vedere da 15 18 esatto per il tempo però comunque è pieno di botti in poco tempo parecchio di nuovo esatto però non deve stare bene di solda però spesso mi sento morto anche quando ho tutta la settimana allora c'è da dire che purtroppo cool dota ha quella gran capacità di sopravvivere ripartire si chiama resilienza resilienza bravissimo è un highlander ok è un mazzo highlander che fino alla fine può comunque chiuderlo resistente e resiliente è una carta che come è molto forte di side contro monoer e fangren ma eh il vabbè è molto forte fangren contro di lui ma non non compensa comunque la velocità e la molle di danno che ti arriva cioè cool dota è un problema ad oggi si mi ha messo la giocata di ponte e fontana niente di nuovo tiene aperto tutti i colori non cambia nulla comunque continua a non cambiare nulla finchè non trova che è un 3 3 anni e perchè non ha picchia ma no perchè c'era in forse che è un 4-4 non ha senso se no stavo pensando adesso santa può fare adesso che sei in vantaggio picchia con il mir dopo aver fatto questa giocata tu entri piuttosto ricevi un blocco o comunque scena come fa a essere un vantaggio il mir sul sui non volanti tu sei in vantaggio dato che ma dice l'arnella di picchiare con il tuo mir si picchi con il tuo mir in forse tanto l'altro è un arnella ma anche va da para e lo so però tipo il prossimo turno potrei portare a pochi due hai i black token e ti spacchi un non so capire dove andare a parlare scusami non so rimanere troppo sotto e senza far nulla non mi piace ah no beh certo però è il mazzo che ti porto a fare questo in questo momento perchè in questo momento credo di affrontare a picchiare ma non può farlo ok lui resta liber già adesso lo fa adesso picchiare non lo so a meno che non vuole farci tipo un par di sopra ok io metto 3 router 2 router e 2 shaman uno scatto ok l'azione con cui mi sono dovuto bene dopo il dot e ovetti però è veramente un secondo il cervello ah beh certo ovetti chiaramente stava messo meglio perchè grazie a scattershot e può pulire board no ovetti perchè vuole anche tanta dita con fang come dicevo esatto anche 2 ecco che ecco che sì come immaginavo voleva fare pulizia e guadagnare no ha rotto il gioco no no semplicemente deve attenzione ha rotto il gioco bravissimo una da 7 a più 7 14 ah no aspetta aspetta è perchè se c'è la rebuke non va ok non ho capito cosa che stassi dicendo attenzione chi ce l'avrà no c'è da fuoricampo ah no è semplicemente no sta pagando eh e per ore più che sono bene as nicky spellbomb ok ok voleva provare ho capito un bravo santo ho capito eh spaccare esiliare perchè cosa provare poi a ah semplicemente ma scusami ma non gli permetterebbe perchè non ha spacca perchè non ha spaccato frontale la risposta la c'è ti spiego eh 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 che cosa dice wargame sacrifica l'antefatto quindi tocca il cesso fa eh nicky spellbomb prima che risolva nicky spellbomb spacca i fontana riprendere forse sto pensando a che fontana no non so magari non voglia la pena ecco 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 lì guardare che è happened però ecco lì Era più che in mano? No Non avrebbe giocato contro Ah probabilmente era un big sum Ok 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 capito Grazie Ho visto una carta blu Di sfuggita No è una terra E' una terra E' niente Senta le vostre risorse purtroppo Ora lui Completamente scoperto Scoperto Ha pure munizioni in campo Vincenzo Può semplicemente girare Per 5 E ora sono danni 5 e poi aspetta Stavo valutando se fare la galvanica Sul 4-4 Cosa che io non farei perché Ricorda puoi fare sempre Bargain su icore Guadagni 2, piaschi 2 Ma non benissimo capito Certo In questo caso non benissimo No no in questo caso no Però si devi A parte che penso che Lo fa Lo fa Lo fa Lo fa ok Vuole trovare risorse E' un po' intimidito Anche dal fatto che Sta prendendo Tanti danni Quei due punti vita Saranno fondamenti fondamentali Una ranella E una carta che non ho visto perché E' una Che era una stellina La notte si avvicina E' con un mir E' una romana Non capisco Era una blu E' una blu Forse Era una blu Scusate ragazzi Inizia a farsi un attimo tardi La situazione Un zizzo Ha tre lande in mano E' Ovviamente Santa E' sempre blessato Dalla luce divina Bellissima questa cosa Allora Vincenzo A livello di risorse A livello di border Non vedo come possa Mettersi male per lui Si è inclina con entrambi È un folle No Così Ok Decidi di imparare Ha un'altra barghina Fontana Fontana Mi è perso La versione alternativa Di Da wall Non capisco Ok Niente Sto cercando di Accumulare più risorse Di vedere più risorse Possibili A 14 punti Già una blanda Tranquillo Ricordiamo ancora un po' di lande Con una burma Che dovrebbe avere In mano Sia Dalla notturno Però Non No Inutile giocarle Ma il cimitero Il barghina Di fianco Solo nel cimitero Perché L'esilio L'ha messo Sopra il mazzo Ok Orizzontale Come si è solito No perché Più che altro Con la Niki Spermum Muttire a bada A quel Ah in handy Vuol fare una Blu Blast Beb su Munizioni Munizioni Inizia a spaccare Tutto Un invito Io da poco Come un tanto Un poco Perché Scusi Ah Ah Beh ti ringrazio E anzi ti auguro una Buonanotte Ci vedremo alla prossima Vi saluto Salutavi tutti i ragazzi Della Lega Pauper A Genova E crescete Crescete forti Crescete sani E giocato a Pauper Se riusciamo a passare Ben volentieri Ma do Si Poi c'è anche il mare Non l'avremmo mai detto Già che ci sei Salti Facciamo il mare Easy Siamo a Gennaio Mi sta venendo un botto Voglio di farmi questo viaggio Comunque Di farmi proprio il giro Provo a cercarli tutti Bomba Guarda che c'è il mare Gota 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 Allora la situazione Per Sant'Aria È un po' Pericolosa Ma attenzione Kalo Mi rinforza È un parante enorme È un parante che blocca L'avanzata dell'altro Mi rinforza Sai cosa fai adesso Fermi tutti Fermi tutti Questo può cambiare completamente la partita E non sto scherzando Se entra E viene risolto Quello A parte lo slando Lui inizia Pezzi in meno Pezzi in meno Pezzi in meno Pezzi in meno Adesso Quello che deve fare È Girare quel Io Forse Quelle ditte Perché Non può girarlo Perché Il ditto Cosa sceglieresti Tra la tenere Tra mir e Shaman No ma Quella shaman è già morto Cioè Devi pensare Che è un morto Che cammina Perché Quella shaman Bosa che Sacca Un artefatto Sì Io quindi Farai Proprio Le ditte lo tirerei Appena Muore quel gorilla Sempre si entra in piedi Ok Sparca ciclo Enesima ronda in mano L'ha pescato un altro Non si stappa pesca È entrato Ha risolto È lì È lì È lì E intanto È lì Io picchierei con l'enforcer Allora Perché c'è che No non è vero Non puoi neanche fare Un urco Difficile situazione Perché tu hai il chiner Che vuoi tirare A uno vuole spaccare la fontana Forte Forte La vuoi attivare Lui attiva La bombetta Parte che non avrebbe motivo Di attivarlo Però Dici sì Va bene Interessantissimo Questa scelta Anche la scelta con cui ha usato tutto C'è un problema di questo Di questo gameplay Diciamo Di colori santa Di colori santo Che ha costretto zizzo A saccare Senza possibilità di risposta Come si chiama Stacco Vincenzo Vincenzo A fine del tempo Quello che può andare a guadagnarci è solo lui Perché è 1-0 Quindi se pattassero adesso Non tanto perderò i suoi punti Stanno scegliendo Stanno scegliendo Stanno risolvendo La nuova report Comunque sì Stato costretto A rimuovere prima La munizione Per evitare che spaccasse Con l'entrata di guerrilla shaman Ok Comunque gli hai spaccato Guerrilla shaman Con l'entrata di guerrilla shaman C'è Sì Sì hanno fatto Ma a questo punto Perché saccarsi l'handa Perché non saccare La fontana in risposta No Cioè Ma vedi lo sbaglio io Ah forse è un pezzo Ah Per la gourmand No Vedi che aveva comunque due fuori Era inutile Spaccare La fontana Ah Eh no Però mica Ma quella Borghina Quello che ho dato prima Eh ma Io perché l'ho ritronto E a sto punto Attacchi di Mir Sì Tornare più la fontana È difficile scegliere Perché potrebbe avere Anche lui Editto Gioca Avendo la stessa lista E intanto Con questo Giochi Editto Quanto per scafo Ragazze Imbrazzanti C'è troppi più schivi C'è le dispute C'è le pare game C'è Sto schifo qua Ok Anche lui Iniziamo a giocare A spaccarci Le vande Mir ormai C'è le fine Dice No Lo spacco io Tutti indistruttibili Tranne una No Tutti indistruttibili Tranne una E allora Spaccare Di chi Sperbo È Di costa 3 No Non è Avanti Non vuole togliere Per chi c'eva cedere Voglio fargli la teoria Di risposta Buonasera Buonasera Com'è andata Questa ho vinto 3-1 Per solo contro il D Perché è 4-0 Ha vinto Complimenti Qua c'è Affo Contro Affo Ah bello Il bellissimo matchup G1 Ma G3 è questo E quel ground Di Santa Maria È G2 Dove il primo game È Finito In 8 turni Perché ha fatto 5 Ha fatto Picchio 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 Questa G2 Questa G2 Santo ha fatto Picchio 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 Vicente fa Cede E ora Stanno cercando Di smogere Ha giocato Il problema Che ora Più di Santa Maria Non può più Essere Quello di tempo Leggiare Perché Ci invito A Genova Per un bel Pau Sì Ah Io Ho un'idea Ma Insieme a quest'estate Dopo lo dirò No Un po' più avanti Non per quest'estate Diventate No No Per quest'estate Perché non tutti Sono attivi Eh sì In che senso In negozi Dice Eh sì Sì Dicono Non ti preoccupare Ci penso Io Facciamo Un legame Presata Veramente In Turo Io lo voglio Fare Un botto Voglio Prendere Un cazzo Di camper Fammi Tutti D'Italia Ecco Magari Così No Padova Vicina Comunque Vi ragiono La fontana Ci potremmo stare E fare la scampagnaccia Vero Col camper Siamo invitati A Padova A Genova A Torino Lo dico io In Calabria Calabria davvero Non so scherzare Sì sì Mi ricordo La prima volta A suo fare A Novi Ligure Che è in Toscana Piemonte No È sempre Ligure E in Piemonte Ok Dove sbagliare una volta Ok Poi invitarci ovunque E noi verremo Con la nostra Tendardo Conosso Però sono Anche Mi hai un po' Triggerato Adesso No Sostentano Ci sono Un zetto Oh Editto Editto Forza Editto Il risposto Il risposto A scombo Bellissimo Questa È benvenuta Perché Gli sparo Perché Giochi Scombio Ma ogni tanto Lo fai Dici In risposta A scombo No No Posso farlo C'è più munizioni Ma non ho mai fatto Salta Salta Aspetta Montana Riprende Perché ha fatto Un danno Sulla Burbank E non faccia Dipente La Liga Pauper No Veramente Perché non ha fatto Un danno Sul Ma vogliamo Spaccare La di Heal Sper Come Un Tanto Manca Si Non tantissimo Non mi ricordo Che succede Succede che Si è stellato Di nuovo Il game E insomma Eh si Ora Trovata Con il mio Reinforcer Intanto Picca Con Mancano Sette Minuti Guarda Come si Costalla Un game Di Affo Contro Affo Fai Terra Di Kenko Troppo Arro Adesso C'è un Boccante Infinito Però Deve Vincere Santa Raga Avete Un caricatore O C'è un Così Per Caritarlo No No È Di là Con Le mie Cose Quindi C'è Una Fata Di Stallo Un'altra Volta Perché Ma G2 Quella Terza Fata Di Stallo Sì C'è La Terza Fata Di Stallo Del Perché Vincenzo La Seconda Non l'ha vinta Nessuno Però La partita è stata Santa Maria Fa Terra Di Kenko Lui Fai Di Per Farvi Rinforza Lui Gioca Rinforza Poi Rilasciarli Gioca Rilasciare Poi Fa Gurb Anche Pensavo Ok Adesso Posso Andare Avanti Adesso Di Terra Di Kenko È Un Po Allogurante Questo Ok No Forse A Risolverlo Bene Sta Cosa Perché Perché Lui Ha Vinto Gimuno E Quindi È Tempo Che Prende E Salta Aspetta Kenko Kenko No C'è N'esposto Spacchi Quattro Presco Counter No Ok È Entrato Bene Terra Terra Rosso Blu Sì Stappato Ok Dai Stiamo Arrivando Verso Una Risoluzione Della Partita Provinente Sì Perché È diventato Lui Un'arte foto Indistruttiva Che Quando Passa Il turno Trasla Sulla Terra Sì È come Arthano Scale Come Scave Come Ozory Perché È in Fase Di Costruzione No Passi Il turno Complete C'è Esatto Ho Una Beb È Questo Sforzo In Prendo Però Fatta Così Non lo capito Niente Spacca È È Un Bloccante No Non lo capito La Beb Ha Una Carta In Mano Vuole Farlo Partire 8 9 10 11 Non Bastano 6 7 8 9 10 11 15 12 12 11 12 12 12 18 Quindi Ce la faceva No Quegli attaccanti Tu hai calcolato Sì No 4 5 6 8 10 Ma che partita è Cioè Risolvo una cosa La rigioco Assurdo La santuaria C'è un po' La vince Entrambi possono ancora vincere Io fossi in santuaria Inchirei Si sta prendendo una brutta Pia Questa strada Vabbè Ricordiamo In un'altra parte Ci può essere Una doppia galvanica Tra l'anni Chi è la doppia galvanica? Ho detto Ci potrebbe essere Una doppia galvanica Galvanica Non vi preoccupate Va tutto bene Tranquilli Guardiamoci Vincenzo Con la sua vera Doppia galvanica Vi sucerebbe Anche Beh Attacca Dove te c'erano un guorno Non è un guorno No Non attacca con Ah Che vola Con l'unico Io te c'erano anche con un guorno No Perché te la spacca Si attacchi con tutto Come te la spacca Con la mette la sforza Ok Lo perdi un forza Eh sì E quindi che cosa fai Sacchi la terra Oh C'è una terra Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Magari c'è una terra Ci sto 12 15 danni Sul forza Santa Maria 15 danni Se entra per un forza Dice Se entra E questo turno Ha pescato Un po' Eh Non lo Non lo Non lo veo Comunque oggi C'è Non so come potrebbe Come può farlo Letteramente Vincenzo Potrebbe non fare più nulla Un po' No Però se non fa nulla Ti dà del tempo Sì Se non lo fa Stacca con entrambi No Finito No Perché È finita La domanda è Perché l'ha fatto Perché Così Aldo Che Interna Che Per Sipetano Sennò Lui C'è un bloccava La Gourmand E' Certo Non è vero Perché No Può Santificare Inlande Si Spacca Gourmand Non ha fatto Un danno Due Ah pure Si ce l'aveva Oppure Però Rimane comunque La giocata Una giocata Che non approvo Che non trovo Corretta La parte sua La banca Cos'è Si Oddio Lo sto facendo Davvero Per forza Sull'ultimo Che accesso Perché Tu Potrò Ah Ok Soprò La banca Quattro No Fida Questa Quattro D'anni Con Un Soprò Sembra Se riesce A togliere Le munizioni Blu element Al basso Intervalica Inzione Vabbè Avrebbe Vabbè Abbiamo visto Che ha vinto Finito Ok Ci sta anche Quello che dice Da poi Ha finito Anche il tempo Comunque Quando Un giocatore Ha finito I kiri Hai pescato E ti risponde Si Anche nel turno Dell'avversario Si